Questo sicuramente lo analizzeremo, io credo che abbiamo fatto un ottimo primo tempo e poi nel secondo tempo ci siamo messi in difficoltà da soli, abbiamo fatto autocolle su una palla dove eravamo schierati, abbiamo regalato il quarto colle assolutamente noi. Dobbiamo lavorare, questo lo sappiamo, ma dobbiamo lavorare anche dal punto di vista della personalità perché non può essere che se ci gira un episodio contrario poi andiamo a fare di questi errori e una partita che avevamo fatto per 50 minuti molto bene, la roviniamo così e sembra una debacle, invece una prestazione per 50 minuti forse è stata la migliore del campionato. Sì sì è successo questo anche mercoledì, io spero che sia più un fattore anche che queste due partite siamo andati in difficoltà dal punto di vista anche fisico perché sono state ravvicinate, abbiamo giocato con squadre che hanno dei cambi che ti possono mettere in difficoltà dal punto di vista delle vittime e noi abbiamo avuto delle assenze, anche oggi con l'uscita di Donucci abbiamo dovuto un po' inventare qualcosina nel reparto arretrato, però non basta questo, dobbiamo assolutamente migliorare anche nel carattere, noi dobbiamo anche con un episodio come quello dell'autocall del 2 a 1 poi cercare di rimanere tranquilli, compatti, invece abbiamo dato la possibilità anche con errori nostri soprattutto ma anche nel modo di difendere poi di farci fare male, questo non va bene, quindi dobbiamo lavorare sicuramente molto, dobbiamo cercare di ripartire, so che questo è un momento che sicuramente ci mette sotto una luce negativa in questi tre giorni, prendere sette golle è pesante, però dobbiamo avere la bravura di capire gli errori che facciamo, quando dico che sia una squadra che deve lavorare, una squadra nuova, ecco, deve avere anche una fisionomia per tutti e 90 minuti, oggi ripeto abbiamo fatto, secondo me, 55 minuti migliori del campionato e li abbiamo sprecati, dobbiamo ripartire da questi 55 minuti, lavorare sugli errori del secondo tempo, ma diventa anche importante capire che le partite non devono essere regalate con degli errori grossolani, abbiamo lavorato su delle situazioni, bisogna essere onesti, se avessimo concretizzato il primo tempo quello che abbiamo creato sarebbe stato meritato, non siamo riusciti a concretizzare, abbiamo delle difficoltà, credo oggi che non dipendano dalla proposizione del gioco, perché siamo usciti, abbiamo fatto molto bene nelle uscite, abbiamo attaccato bene sugli esterni, abbiamo attaccato bene la profondità, abbiamo chiuso anche le azioni sbagliando due o tre volte la conclusione finale, quindi credo che avevamo trovato le situazioni giuste per controbattere il Bari, non è il problema della punta pesante o delle punte leggere, il problema è che quando abbiamo avuto questo infortunio, che siamo andati in svantaggio, lì la squadra ha cambiato atteggiamento, abbiamo continuato a proporre qualcosa, ma non più con quella convinzione, abbiamo regalato spazio, abbiamo dato delle situazioni anche con palla noi in possesso e quindi questo è indice di difficoltà su cui dobbiamo lavorare. Diciamo che oggi c'è il fatto che mancavano anche Reginaldo, Tonucci si è fatto male sull'1-1, perché si è fatto male sull'1-1 e questa situazione la paghiamo in questo momento, quindi che manchi qualche giocatore non ci aiuta in questo momento, soprattutto che sono giocatori più di personalità, che in una partita come questa di oggi andando in difficoltà ti possono aiutare, però ripeto non dobbiamo cercare alibi perché noi rappresentiamo una maglia gloriosa e non mi va di andare a prendere un'imbarcata, quando hai fatto 60 minuti credo si possa dire tranquillamente meglio il Catania del Bari nel primo tempo per larghissimi tratti, quindi poi andare a perdere una partita in maniera così larga dà fastidio ma oltretutto dà da pensare anche perché ci complichiamo la vita come è successo con la Ternana, da una difesa solida, non una squadra organizzata siamo andati poi in difficoltà nell'ultima mezz'ora, quindi dobbiamo essere più bravi, forse ha troppa voglia anche di recuperare la palla in una certa maniera, poi ci spone a queste situazioni e dobbiamo essere più bravi sicuramente, dobbiamo lavorare, il tempo ci sarà, perché sono sicuro, ci sarà garantuomo con questa squadra ma nel frattempo dobbiamo essere anche più esperti, perché non possiamo cestinare una prestazione importante per 55 minuti e poi andare in difficoltà così clamorosa nell'ultima mezz'ora.